forse perché della fatal quiete tu sei l'imago a me sicara vieni o sera e quando ti corteggian liete le nubi estive e i zefiri sereni e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo meni sempre scendi invocata e le secrete vie del mio cor suavemente tieni pagarmi fai coi miei pensier sull'orme che vanno al nulla eterno e intanto fugge questo reo tempo e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge e mentre io guardo la tua pace dorme quello spirito guerriere che entro mi rugge composto dal foscolo tra l'agosto 1802 e l'aprile 1803 è questo uno dei sonetti più belli della nostra letteratura un chiarissimo esempio di perfezione poetica la sera è sentita dal poeta come il momento in cui si stabilisce una indefinibile consonanza tra il lento venir meno della luce e la quiete carezzevole che pervade l'animo sembra che si velino e vadano scomparendo non solo gli oggetti ma anche gli affanni e le cure dell'animo mentre un nuovo senso di pace persuade all'oblio e come naturale conseguenza sopravviene in quei momenti l'immagine della morte ma non è un'immagine struggente non porta con sé rimpianti e disperazione ma piuttosto un senso di liberazione da ogni dolore e il placamento ad ogni spirito guerriere che ci travaglia e ci fa soffrire nei 14 versi di questo sonetto il foscolo ha saputo fissare quasi il respiro della sua anima e dell'anima di ogni creatura ecco perché non esitiamo a definire opera di perfetta poesia questo ineguagliabile gioiello della letteratura grazie a tutti